Sommersa dall'acqua a causa del malfunzionamento di una condotta fognaria per l'ennesima volta, non trovano pace le imprese che si trovano nella quinta strada della zona industriale di Catania. Segnalazioni continue all'IRSAP prima e al comune di Catania ora. Dopo il passaggio normativo sancito dalla regione che ha affidato le strade, l'ex Etna Valley alla competenza dell'amministrazione comunale, ieri l'Alteria si è allagata a 60 cm di acqua che hanno reso la strada un pantano impercorribile. Condizioni insopportabili per chi ha scelto di investire in un'area che doveva riservare sviluppo industriale ma che in realtà presenta ancora aperte contraddizioni tra balletti di competenza e inefficienza. E oggi si sta provando a porvi rimedio, una volta per tutte. Abbiamo evidenziato due cose. La prima è che si è otturata la Tura. Cos'è la Tura? È uno dei sistemi di bloccaggio che dovrebbe impedire di far passare l'acqua, e di farla versare da quella parte e che potrebbe far spostare la direzione dell'acqua stessa verso la playa col disagio di alcuni lidi sui quali arriva quest'acqua reflua dalla zona industriale. Ebbene, non sappiamo cosa sia successo. Forse la mano dell'uomo, la dico in maniera ottimistica, per non dire i sabotaggi che purtroppo avvengono, o può darsi anche la bomba d'acqua che l'altro ieri a Catania c'è stata. Non è possibile che una Tura si vada a otturare così all'improvviso. Quindi evidentemente qualcuno avrà, dico qualcuno così, il provare maestatis avrà pensato forse con qualche pala di deviare il corso d'acqua e questo poi crea problemi dall'altra parte, intendo, alla playa. Perché sulla zona industriale ci stiamo scommettendo. Abbiamo iniziato i lavori nella quinta strada, nelle strade vicine, abbiamo appaltato già e hanno iniziato i lavori sui carabinieri. Ho in corso una richiesta di finanziamento per la sicurezza, con i droni, quindi non con le guardie giurate, perché costava veramente tanto. Questa la porterò avanti, quindi costa molto, molto, molto meno. e con i droni cerchiamo di vigilare su una zona che ricordo è grande tanto quanto il centro storico.